Si è parlato di dolore, di nuovi sistemi per la sua valutazione qui a Milano nel corso del terzo appuntamento di Magenta Osteoarea. Ne parliamo col professor Gianfilippo Bagnato, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia all'università di Messina che ha appunto tenuto un'interessante relazione proprio su questo tema. Allora professore, quali sono i principali problemi che si incontrano nella valutazione del dolore nel corso della pratica clinica? Si, va detto innanzitutto che il dolore rappresenta uno dei sintomi più importanti perché il paziente non tollera il dolore e quindi rappresenta il motivo principale per cui si rivolge al medico e quindi l'approccio. E in questa occasione il medico può fare una diagnosi precoce, però va detto pure che ancora oggi nonostante i progressi notevoli nel campo di tutti gli aspetti della medicina il dolore rimane fondamentalmente un sintomo molto malvalutabile nel senso cioè che non abbiamo degli strumenti validi per poter oggettivare il dolore e quindi quantificarlo. Ci basiamo fondamentalmente su dei questionari di autovalutazione che il paziente compila. Va detto però che questa autovalutazione può risentire tutta una serie di fatti diciamo ambientali quindi se il paziente ha avuto degli stress, se non ha trovato parcheggio, se si è bisticciato con la moglie, se il vigile gli ha fatto la multa o altre condizioni del suo variabile del tono dell'umore perché va detto pure che il dolore oltre a rappresentare l'espressione più comune della maggior parte delle malattie in particolare di quelle reumatiche va detto pure che il dolore risente molto del tono dell'umore. E quindi diciamo un metodo di valutazione più approfondito è importante per poter meglio quantificare la situazione. Ecco lei proprio di questo ha parlato qui a Milano perché nel suo centro viene utilizzato uno strumento particolare che voi avete migliorato, affinato proprio per oggettivare meglio il sintomo dolore. Ecco ce ne può parlare? Sì, in realtà gli algometri sono utilizzati già da tempo, sono degli strumenti che possono stimolare il paziente per via elettrica, per via meccanica, per via termica e quindi in rapporto a questa stimolazione si può valutare la soglia del dolore. Noi abbiamo parzialmente modificato un algometro commerciale modificando il sistema meccanico di stimolazione e attraverso questo sistema noi possiamo andare a valutare la quantità, la soglia del dolore cioè possiamo registrare man mano che incrementiamo la pressione qual è il momento in cui il paziente risente. Questo metodo diciamo è un metodo che si deve integrare con i metodi che già conosciamo che sono validati però nei nostri studi è rivelato di offrire una migliore correlazione con la depressione. E quindi lo utilizzate sia in fase diagnostica anche nel corso di studi clinici? Qual è l'impiego che ne è fatto? Un impiego di routine o solo per i pazienti più gravi? Allora siamo in una fase di studio quindi lo stiamo soprattutto verificando la validità però quello che finora è emerso è che certamente ci può aiutare molto a comprendere se il paziente si trova in una condizione di tono dell'umore depresso. In questo caso come è noto non è utile insistere con farmaci antinfiammatori o antidolorifici ma bisogna rivolgersi ad uno specialista neurologo o neuropsichiatra per cercare di meglio capire qual è la condizione del paziente se ha bisogno di una terapia con farmaci specifici. E il paziente come accetta questo tipo di strumenti? Lo accetta molto volentieri perché il paziente quando si sente studiato è sempre più contento quindi qualsiasi valutazione viene fatta è valida. Noi riteniamo appunto che tutto ciò possa offrire certamente un contributo di validità anche e soprattutto nella diagnostica.